Dite di amare i vostri figli sopra ogni altra cosa. Eppure state ancora minando il loro futuro sotto i loro stessi occhi. Forse non lo sapete ancora, ma noi bambini salveremo il mondo. Ciao, buongiorno a tutti. Il mio progetto è una banca per bambini e adolescenti. Ora i ragazzi stanno consegnando i loro documenti e i rifiuti solidi. Le addette li pesano per poi poterli pagare. Dipingo quadri, li vendo e con i soldi compro cibo, bevande, sacchi a pelo e glieli porto. Io sono molto felice di poter coltivare i miei ideali. Studiare è l'unico strumento per diventare ciò che hai sempre sognato di essere. Stiamo conducendo un'enorme campagna di sensibilizzazione sul dramma delle spose bambine. Perché non siamo trattate come i ragazzi? Perché? Sono consapevole che quello che sto facendo ora mi servirà in futuro. Chiedo ai nostri leader di fare dell'istruzione la massima priorità. Tutti combattiamo per riuscire ad avere qualcosa di meglio per il futuro. Voglio riuscire a guarire i bambini. Possiamo alleviare le sofferenze di tutti e trasformarle in gioia. Credo che insieme diventeremo invincibili. Sì, noi possiamo! Il futuro siamo noi. L'importante è avere l'idea. Sembrava pura follia, ma il progetto è diventato realtà.